... Bene, ragazze e ragazzi, rieccoci di nuovo qui dopo mille peripezie. Di nuovo, voi non avete visto nulla ovviamente, non sapete nulla, ma ci sono stati un po' di problemini in fase ancora di risoluzione. Sì, adesso sembra che abbiamo trovato una soluzione. Sembra, sembra. E speriamo in bene. E quindi se la suoniamo. Ecco, infatti. Grazie per aver fatto alzare la signorina con i capelli rosa, che io mi sono seduto perché sono stanco. Sì, giustamente, giustamente. A forza di giocare a The Ring. E in questo periodo, sì, sto farmando a bestia. Ma veramente a bestia? Perché voglio arrivare al DLC pronto. Pronto. Pare sia molto difficile, pare che tutti hanno avuto problemi, ma a me non me ne frega niente. Io ci voglio provare. Ma io ci sto già giocando. Maledetta. Sì, ho registrato tre episodi. Maledetta. Ho battuto un boss e due boss secondari, credo che siano, non lo so. Ma a che livello sei? Che livello sei? Ah, io sto a 200 e passa. Ah, e anch'io voglio arrivare al 200 prima di partire, si sa mai. Eh, ma io ho 90 di magia. Li stendo, proprio. Maledetta. Maledetta. Ma se io non avessi fatto il mago in The Ring, non credo che sarei riuscita a completare il gioco e a fare anche DLC, che infatti dicono tutti che è difficilissimo. Ma anche qua sei mago. Ovvio, sono sempre lo stesso personaggio. Ma qua non riuscirai a devastare come in The Ring, mi spiace. Eh, no, invece, oddio, aspetta, devasto, però devo dire un po' più moderatamente. Esattamente, questo lo devo dire. Esattamente, esattamente. Ma vedremo quando arriverà il livello 12, quanti danni farai, dai. Perché non so se lo sai, ma è livello 12 il livello massimo? Sì, me l'avevi detto, sì, sì, me l'avevi detto. Va bene, ma detto ciò, direi che possiamo andare. Sì, damose, damose. Possiamo andare, ecco, si risieda, signorina. Allora, io mi sto abituando praticamente a usare mouse e tastiera. Ah, hai visto, ho visto che te l'ho detto, che alla fine era meglio. Sì, perché... No, molto bene, è meglio. Allora, venga con me, venga con me, che adesso ci aspetta una battaglia. Bene, proprio che mi va a dimenare le mani quest'oggi. Vediamo, dovremmo essere a livello giusto, livello 3, sì. Sì, prendi l'ascensore. Con questi qua sotto? Aspetta, ecco. Ci stiamo? Yes. Sì. Ecco. Oh, ammazzate. Allora, dobbiamo andare di qua. Stagno sagro. Sì, sì, qua. Ce l'avevano già stati. Qua è dove hai acquisito le abilità di menestrello. Che è? Io non ho fatto niente. Oddio, oddio. Che hai fatto? Vedi, guarda, guarda, guarda. Oddio, oddio, che è? Che è successo? Eh, stai guardando? Sì. Ma no, io non sto guardando niente, cosa? Come, c'è il dialogo, il dialogo. Ma pochi, io non vedo niente. Oh no, ma no, ma c'è scritto dialogo privato. Eh, no, no, ma non c'è la spunta. Ok. Lo stai vedendo anche tu, quindi? Sì, sì, adesso sì. Ah, ok. Eh, mi sembrava strano. Piacere mio sono Galizzi. Quindi, costui si chiama Raffaele, eh? Sarà un personaggio molto importante, però. Ok. Dimmi, dimmi, dimmi cosa gli rispondo. Eh beh, piacere, lui ha detto piacere, sono Raffaele. Piacere, piacere, piacere. Ma questo è un macchione. T'ha fatto sparire. Eh, tu dove, ma tu dove sei? Sei, sei rimasta lì? Eh sì, eh. Come sì? Oh no. Tu sei qua, no? Tu sei qua, no? Sono due sedi. Ah, ok. Ah, ok. Ma questo chi è? Stai vedendo anche tu, giusto? Sì. Ok, ok. Riportami in giro immediatamente, metti in mano alla tua arma, qualcosa? Può essere un po' più specifico? Complimenti dell'arredamento. Ma io direi da prima, dai. Vai, vai, vai. Sì. Spuntino. Ce n'è appena esercito. Ma come l'ultimo? Io ho appena mangiato. Io manierei perché vedo che c'è un sacco di roba buona, eh. Quindi, cioè. Vabbè, c'è, ignoralo e riempi il piatto. Vedi il piatto. Ma ti ho boh. Lo farei, guarda, giusto per vedere che si mangia. Ehm. Cosa te lo fa pensare? Ma io direi, vuoi arrivare al punto di questa sceneggiata. Eh, eh. Mi senti molto... Non sei entratato? Beh, non è mai stato da me che mi mi preoccupare. Oh, è il diablo. Il diablo. Cosa è meglio che un uccanio che non sai? Un uccanio che hai. Un uccanio? Un campion? Ami un amico? Potenzialmente. Un amico? Conceivabli. ma un salvatore è per sicuramente perché la mia compasione è semplicemente ma che ce ne frega ha toccato il tasto giusto farei qualsiasi cosa e sbarazzami il girino devo pensarci su se sei un folle se credi che stringerò un patto con un diavolo fallo a loro morirei per mano mia non è una buona idea io non cederei quindi andrei sulla tre sei un folle se credi che stringerò un patto con un diavolo scusa ci sono allora è quando andrei a uscire a uscire a uscire a uscire a uscire a uscire E' quello che separa noi dal soldato del devil, pensano che la nostra potenza è una malattia Ma io gli direi proprio riportami indietro Eh no, senti All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck, I'll be there when it runs out Quindi lo rincontreremo? Sì, adesso per un bel po' non si farà più rivedere Ma poi? Però poi quando sarà il momento ti dirò, ti dirò, comunque capiterà tra un bel po' Allora Ehm, ecco di qua, ah il gioco ha salvato, perfetto Chi è che canta? Eh Sta cantando, esplorare la spiaggia Ma non è che so, sirene? Ehm Erano, 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 erano arpie, arpie mi pare Ah, ecco, peggio ancora Ti attirano con il loro dolce canto e poi ti semagnano Eh, però, secondo me, siccome qua lo scontro c'è in ogni caso Bisogna parlare col bambino, che è lì in fondo Ma io mi posizionerei meglio Eh, dimmi, dimmi te Eh, dimmi te Beh, prima di tutto salvo ancora, ok Ecco, bravo Lo so per di Ricordamelo Sì Eh, perché io separerei Perché tu sei mago, devi stare lontano Io sono un arcello, devo stare lontano Magari faccio parlare Karlak, che lei è una guerriera Allora, io mi metterei qua Puoi stare, eh, metti, rimani lì magari E' manco qua? Sì, magari Gale lo metto qui E invece Karlak va a parlare col ragazzino Ah, il ragazzino sta là? In fondo, perché Karlak è una guerriera, quindi Un canto così bello Ma allevate, cretino Sprovare la spiaggia Ma vediamo se puoi sentire Penso di sì No? Sì, sì, sì Ok Ascolta Mamma mia, sto ragazzino è inquietante Ascolta in silenzio Non dovresti startene così vicino all'acqua È pericoloso Termino la conversazione Ok, sono la seconda Sì Non sentite? È così pazzo Ma no, non è che non sento niente Si sente Infatti Concentrati e prova a sentire ciò che sente lui Magari veniamo manipolati Non mi ricordo questo Io farei però la prima in ogni caso Eh, non sento niente Torna arriva, cretino No, no È solo un po' di acqua Io solo voglio ascoltare Solo un po' più vicino Sì Qualcuno lo blocchi Lasciatelo andare Voglio dire Ha scelto lui No, ma povero bambino Ma così siamo troppo distanti Però, no? Eh, immagina se eravamo lì Aspetta una Se eravamo lì in basso Tutti circondati Era peggio No, sì, sì Per carità Però io personalmente sono Pomponissima Eh, vabbè Che ha fatto Gail? Guarda un po' Gail Eh, Gail mi sa che È stato sedotto Ma come? Ma sei un maiale Che Io non so Guarda, cioè E stanno l'aggiunta Se manca avvicinato Se ti avvicinavi Che facevi? Questa entità È attratta Dal canto seducente Di un'arpia Usava le sue azioni Per avvicinarsi All'arpia Permettendone di effettuare Più attacchi contro di essa Per un turno E la stessa cosa Vedi però Carlac Anche Carlac Ma pure Canto seducente Eh, sì Vabbè Adesso vediamo Dai Se riusciamo a risolvere Comunque Io non so Guarda Che vergognati Beccherei Quella più vicina Allora Aspetta Vediamo se ci arrivo Mamma mia Ma sta musica Sta andiamo a sorbire Fino a che Non finisce lo scontro Eh, no C'è quella che canta lì La vedi quella lì Però è un po' lontano Magari col pendola Eh, sì Allora Senti Ma se io mi metto qua E E E Facciamo Sì Vai 14 danni E L'upacchiotto L'upacchiotto Non può raggiungere La destinazione Perché? Ma no Ma scusa A meno Un punto vita Vabbè Doveva spostati qua No Non Perché non ci passa Ma mi dicevo Eh Sta lì Va Ok Questa secondo me Adesso vola su Ma Lo sapevo Ah Bene Meno mai Sono messo Oh No Non Sta cretina Aia Aia Tocca a te Eh sì Però mi devo avvicinare Eh avvicinati un po' Io mi farei fuori Quella vicino a me No Vediamo se ci riesci Sì sì Fatti Vediamo E dunque Mh Uso il trucchetto No? Eh A che cosa Esamina Non c'è resistenze Quindi posso andare pure con questo Vediamo Vediamo Mh E Attacca Ok E poi 13 te danno Ah no Non può bere Vero Vediamo Speriamo resista Se no Sennò la tiriamo su Tocca a lei Oddio Questa si avvicina Pure questa No Ha preso te A te? A me? Te Te Ma Ma questa è sta maledetta Di un'artia Ok Mi sa che Gale Si è ripreso Allora con Gale Buongiorno Maiale Facciamo Facciamo Usiamo il fuoco 65% Ah Con questa Elevazione Maggiore No anzi Usiamo il ghiaccio Magari Diminuiamo Il movimento Il povero Bambino Ma si Lasciò andare Ma venire Un eroe Ho visto Si si Eroi Però Insomma Fino Un certo Un cittino Non faccio Ok No Mi ha No Cazzarola Mi ha sedotto Porca Capuzola Ma allora Scusa Ma pure te sei Posso dire Il canto è Ma perché Non Il lupo Ha qualche problema Non Avranno sedotto Pure il lupo Quando è lì Non fanno differenze Perché non puoi raggiungere Il destinazio Qua è Oh Eh Eh Dai È quasi morta Dai Adesso La secco io La secco io Ti ha mancato Ti ha mancato Meno male Meno male Aspetta Tocca a me Tocca a me La rovino Aspetta che beve La rovino La rovino Bevi E massacra Questa Dai Questa è matta Ok È bruciata La bruciata Bruciata Mi ha fatto Un po' Un po' Critico Mortacci No No Abbiamo noi Alle spalle Sagredina Madonna Picciano Allora Gail Gail Qualcuno Rianimi Galisi Eh Ma Aspetta Sto pensando Che c'è Quell'arpia Lì Da un po' Fassino Eh Si è messa Dietro l'albero Eh Fa niente Lasciatemi a terra 55% Con tutti gli incantesimi Proviamo Ehm Attenzione Colpo Grigli Colpo Grigli È un fenomeno Mi ha fatto bene La La seduzione Capito Si 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 L'ha ringalluzzito Eh beh Eh si eh Allora Eh Andiamo a salvare Quel bimbo Cretino Eh Un attimo Non ci arrivo Non ci arrivo To Facciamo così Anche se mi tolgo Un po' di Uno di vita Fa niente Ok Carlac Resiste Carlac Resiste È sedotta Però è sedotta E abbandonata Ma se ti vengo a Rianimare Tu puoi Tu puoi Eh vengo Vengo a rianimarti Se vuoi Sì Se no attacca Non c'è problema No no Ecco Speriamo però Che non sono sedotto Aspetta Ah beh E basta Ho finito Io Dammi la turn Ok Allora Non ci racconto No Beve Beve Bevi Carlac Bevi Bevi E attacca Vediamo se Ammazza Oh Dai È grande È rimasta Ok È rimasta solo Quella che canta Mi sa Mamma mia Non vedo l'ora Da muto lilla Guarda Cioè proprio Facciamo Scatto Ok Intanto il bambino Ha raggiunto L'arpia Vai che ci arrivi Ma che salto Il ragno Ah Non l'ha presa Fallimento Critico Eh Sono ancora sedotto Io Non posso fare niente Mi sto avvicinando A lei Però E il lupacchiotto Se mi salta Devo saltare Dal Dal Da sopra Così L'attacca Da sopra Eh Ma non c'è Tocca a me Eh ma Io Da qua che faccio Perché è saltato Scusami Ah no Oh perché Perché è saltato Il mio turno Ti ha sedotto Ti ha sedotto No Eh No Ma no Eh Meno due di vita Eh Vado di qua Dai Vado Vado per le camera Scatto Anche ha seduto Anche Karlak Ah che palle Accidenti Ha ammazzato il bambino Non l'abbiamo salvato Oh ci abbiamo provato Dove le fare Eh Scusa Eh la prossima volta Vattene Quando lo dice Eh no Ma era sedotto Non abbiamo attaccato Questa che cantava E quindi Ha fatto in tempo C'è il bambino Non so Vabbè Eh Aspetta che Sto Oh Però continua a cantare Cioè Mamma mia Veramente Mi sono messa proprio nel cervello Tira terminata Io sono sedotto Eh siamo tutti sedotti Porca miseria Solo Gail Non è sedotto Aspetta che Cosa sta Signorina La può smettere Per cortesia Ma tocca a me Eh ma sì Ma tu sei sedotta Ah già Ah il lupo Come ho diventato Non sufficiente Non ci arrivo Il lupo Il lupo è l'unico Che non può sedurre Eh Meno male Eh no Eh No Ha sedotto quello lui No 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 Non ci arrivo Purtroppo Con il lupo Non ci arrivo Ci stiamo tutti avvicinando Continua a cantare Però Però almeno Questa cosa che canta Sta ferma Non fa niente Capito Almeno quello Eh Gail mancato Vabbè Gail Non sei più ringalluzzito Allora Oh È sempre concentrata Su sto canto Aizio Oddio Mi sto avvicinando io Prima di tutti Sì Ero l'ultimo Ero Io non boh Oh Signorina smetta Oh Ha finito Mamma mia È la ora Che fatica Oh Oh Sta cretina Hai printo Deve cantà Mo canta l'anima del meglio Eh Oh Dai Fulminiamola proprio Allora Salta Dov'è qua Oh Vai vai Mina Vai una mazzata Va Sì Vai Oh Eh Mi spiace pure il bambino Vabbè È morto un papa Soldi miei I soldi miei Tutti miei Ehi Ehi Maledetta Il bambino Beh qua non c'è nessuno Io spezzano anche il bambino A 15 di oro Troppo tardi Troppo tardi Spezzato io Ho preso tutto io Tutto mio Tutto mio Fa vedere una cosa Ah eh sì Qui Il bambino Tiffany è morto Eh sì Vabbè Eh beh Meglio lui che noi Eh sì Ma Cos'è successo? Dovevi essere Un'eroina Eh lo so Lo so Perché No è perché I bimbi sono un po' cretini Capito? Cioè Chi è che stava lì? Non devi andare Aspetta Vieni con me Che qua c'è altro Sì stavo andando a Qua Mi pare di ricordare Che c'è Ah ecco Non era qui Era qui Era giù Era giù Aspetta Oh Arrivo Eh prendo io Prima che prendi te No No Hai Oro Oro Maledetto Oro Oro Ecco Dove vai? Ha già preso tutto Ma io mi ricordo Che c'era Una via Qui Aspetta un attimo Forse non era di qua Che bella Che è l'acqua Comunque Sì Molto bella Ma sì Forse di qua Fa vedere Ah sì sì Guarda è qui E qui Vado prima io Maledetto Manca di che posso fare una speed run Sempre ultimo sono io Sempre ultimo Vieni qua Cretino Ora Oh Ma stiamo andando verso un altro scontro? Sì No no C'è il nido qua Ah Ah Allora Leggi Va bene Questa la raccogliamo Leggi Ok Raccoglio il giro di mercanzia Questo qua secondo me non serve Però Vabbè Lo prendo Raccoglio il giro di mercanzia Scorte manda l'accampamento Vai ho preso tutto io Vabbè meglio perché io non riesco a saltare Allora nello spruzzo colorato Magari lo do a Gail dai Tanto Sì Dobbiamo scendere poi da qua no? Sì Sì Ok Allora io intanto vado Torno indietro La facciamo? Sì Vieni mio prode Ok Dove dove sei? Eh qua sotto Dove stavamo prima? Dove è l'arpia? Aspetta 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 Allora avanti perché tanto sto guardando la mappa Sì Alla fine qua il boschetto l'avevamo visto tutto Sì Vabbè che ci manca da vedere Allora ci manca da vedere Qua penso Vieni con me Teletrasportati Dove? Aspetta com'è l'altre trasporto? Dalla mappa Fai M Sì poi Dove devo andare? E poi clicca sul Sui dintorni La vedi in tempo reale la mappa Ah sì sì Ok ok ecco Arrivo arrivo Svegliamo tutta la mappa Bene bene Sì ma dove sei tu? Pronto vedo Ma sì anche se non mi vedi Ma come anche se no? Poi se mi imbatto in un In una Ma dove stai andando? Guarda la mappa Guarda la mappa Guarda la mappa Ah stai lì? Vai su vai su Perché ti vedo io Vai su È un attimo Che mi si è impicciata la mappa Ma no di lì Devi andare su Ma su dove? De qua a destra De qua Torna indietro Oh ecco Su su Ecco Dritto Dritto Sempre dritto Ah sì 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 Tu stai dritto De qua No Verso il boschetto Vedete? No di là Ah no No Sono andata troppo avanti Aspetta Dove stai andando? Guarda che adesso Per non aspettarmi Per non aspettarmi Vabbè fa niente Va di corsa Va di corsa Ma no 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 Creare un po' Ah ma non è di qua Ma scusa Per andare lì? Come si arrivava di lì? Eh Chi se lo ricorda Fammi vedere Non si apre la porta? Si è aperta Si è aperta Ah ecco Ma fammi vedere un attimo Che c'è un punto della mappa Che secondo me c'è qualcosa Ma Non si capisce Ah sì Ecco da qui Allora Questo non lo sapevo Guarda Vieni Vieni Ma qua ci siamo stati un sacco di volte Come non lo sapevi? Non ci ho mai fatto caso Ma io Vediamo se ci arriviamo Vediamo se ci arriviamo Troppo alto Vedi che lì c'è Aspetta Vediamo Eh troppo alto Eh no Eh no Troppo alto Maledizione Spazio insufficiente E allora E allora niente No Niente Ma scusa Come possiamo Non c'è un passaggio No Ah da qui Da dove? Aspetta Ah da tutt'altra parte Eh vabbè Allora dai Andiamo via Perché qua L'esplorazione È molto importante È importante Sì Anche non lasciare i compagni In piedi È importante Oh senti Quella che ammazza i bambini Ma no Ma quello era un caso unico Dovevo dire Ma io l'ho ucciso Io è stata l'arpia Eh l'arpia Se l'hai portato via Eh ma non hai fatto niente Per salvarlo Come no Ho fatto Dai apri Apri Ma è aperta la porta Ah no Eh no Questi hanno paura Che gli entra gente Continuano a chiudere Ma de che Ma de che Vabbè Allora Allora Dove dobbiamo andare Ah lì c'è il baule Ok Ok Fammi vedere Forse è arrivata l'ora Di spostarsi Un po' di più Quindi questa zona L'abbiamo già completata Tutta? Completata Beh però Ne abbiamo esplorata bene Dai Andiamo su di qua Andiamo su di qua Che qui c'è qualcosa Esploriamo Esploriamo Ok Ok A forziere pesante Vediamo Ma dove sei? Ma che sa fa lì Si è fermato Sto cretino Ma io boh No Dico Vai una spinta Prendi tutto Estraiamo qualche ingrediente Ok Prendo tutto Guarda bene Guarda bene Ma dobbiamo scendere qui no? No no Ah guarda cosa abbiamo qui Eh no Ma hai detto Niente Ci mette un nanosecondo proprio Allora se vuoi Cosa fai? Perché hai rotto il barile? Olio? Aspettino che moppiamo fuoco No Qui c'era un filmato mi pare Dove c'è quel pertugio E quindi? E quindi vado io? Si vedo vai Vai che io ti ascolto Ah no Io ho fallito per ce... Ah no ecco ecco Fenditura nella roccia Ascolta allora Si Schifo ragni Eh ma l'oro L'oro Osserva i ragni Restando pronta a colpire A colpire è pronta Allora io ho Ranger a destra di animali Ho rapidità di mano Ho 2 più 2 4 Eh ho più vantaggi Con rapidità di mano Ficca rapidamente La mano nell'anfratto Cercando di afferrare La sacca Vadi Ok Vediamo 15 Ecco Benissimo Fallimento Ho qualche ispirazione No E niente Aia Mi ha fatto male Ci posso riprovare Eh Vai vai Sennò 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 Poglio Allora facciamo Rifaccio Vai rifai Rapidità di mano A destra di animali Facciamo a destra di animali Dai Anche se ho un punto in meno Ah è più facile però La cosa La Ho uno Ci fa solo mai io? Eh provaci te dai Almeno non mi ha fatto male Ah no posso Posso Ah vai vai Proviamo Ormai E niente Di uno Magari adesso esco Questa è sfiga Questa è sfiga Ecco adesso arrivano E quindi niente Vabbè tutta esperienza Tutta esperienza Cioè ma adesso È iniziato il fight Con i ragni Non ci voglio credere Boh vabbè Allora Or dunque Carissimi Or dunque Non sono stata io Non sono stata io Ve lo dico È stato lui Vabbè dai Uno Ah risorse Non so se non Ah ok Posto Carlac Dove sei? Qua Olè Dai è morto Vabbè sono Il mio è morto Sono ragnetti Abbastanza merdosi Vabbè Vede quello che ha fatto più cagare Movimenti non sufficienti No no A me no Vabbè Ok No Vabbè Questo è il nostro Ho sbagliato Ho sbagliato Cavolo Tocca il ragnetto Che giustamente Ce l'ha con me Ok Io farei Così Ok Dai è grande Carlac Mani lunghe Ispirazione Io bevo una pozione Però Ecco Vediamo 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 qualcosa C'è una ceppa Vuoto Vuoto Ah ci possiamo riprovare C'è vuoto Ah prendi la sacca Ah stavolta la prendiamo E basta Che è successo Che è successo Che è successo Ah mi sa che Aspetta Che sei disconnesso Sì Aspetta Ti ho rimandato l'invito Sì Fa vedere intanto la sacca Che non mi è arrivato Non ti è arrivato No Aspetta Oh no Che è? Aspetta Se Fai così Aspetta un attimo Menu Eh mi si è Menu principale Aspetta Devo uscire un attimo E rientro subito Sì sì Non so magari si è buggato L'overlay Non lo so Quindi l'invito non ti è arrivato No No Allora Carica Carica Vediamo eh Se è uscendo Dal menu Se è uscendo dal menu E rientrando Magari si è messo a posto Tu sei nel menu adesso? Sì Ok 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 Ti ho mandato l'invito Ok adesso è arrivato Ok Riprendi possesso del tuo corpo Eccomi Ecco Alla fine Alla fine la sacca l'ho presa io Maledetto Allora Sì me la tengo io Ok la sacca Sì me la tengo io No tengo io che le sacche le uso poi per suddividere la roba Ok 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 Possiamo proseguire Attanto se ci sono delle spese da fare paghi tu eh Cioè io te lo dico Ma se te sei ricca Stai dicendo Ma cosa? Ti stai a prendere tutto l'oro? Faccio manco un tempo a D Ah è che tu già hai preso Torniamo Torniamo giù Allora andrei magari Non so Verso l'accampamento goblin O verso Ah impossibile raggiungere Sì Eh perché non andiamo dai goblin? Scusa Non dovevamo andare effettivamente dai goblin? Sì ok Ok però possiamo anche prenderla larga Ti sei fatta male? No sì Sto rotta un ginocchio ma Sto apposto Aspetta ma i miei animaletti dove sono finiti? Oh il lupo si è incastrato Il lupo si incastra sempre Aspetta Ma Ha caduto Eccola Ma dove è rimasto? Sopra? Sì Ma qua è meno due di vita Non c'è niente da raccogliere qui Raccolgo un tanto robe? No Sì Vai L'artemisia E niente I miei animali si sono Vabbè che posso Posso fare così Guarda Tanto C'è una borsa Magari a sto giro A sto giro Proviamo a cambiare Evochiamo il cinghiale Cinghiale dissanguato Morto E Evochiamo Ma Carne dissanguata Ecco Scorte da campo A posto Il cinghiale dissanguato Era quello che si stava ciucciando Bastario Ma che Oddio perché ho detto esamina Vabbè esamino Ormai ho detto Clicchiamo Ma che a fari un dracolari um si ha preso una rana si molto utile albero caduto un po che cos'è l'albero caduto è un albero caduto e no ma mi dà la rotellina a me ci posso mette seduta a non suoni da un seduto vabbè niente proseguiamo di qua e qui ci sono dei forzieri leggi vabbè ok raccogliere mercanzia liuto rotto e no è rotto io raccolgo tutto sto prendendo anche di scortevi il campo si brava brava sargente prego prego non possiamo toccare i corpi sennò è un crimine lì era quello con cui ha litigato zevlo ricordi aradi parliamo parlaci qualcuno deve occuparsi di quei goblin ci penserò io ho cose da fare altrove sono andato via prima possibile non perdo tempo con i diavoli io pensavo fossi occupato a dirigere la tua brigata facciamola uno di che contratto si trattava che io voglia quell'oro dove dovrei cercare ma guardi non sono io che parlo ma è un mio compagno vuoi mollare potrei provarci io vero non crederei il rischio neanche io ho una bisaccia piena d'oro no le seconde neanche ho avuto se pensi che puoi fare meglio è chiamato la night song è dovuto essere presa sotto il templo dove i goblin ci siamo io ti darò una mappa del templo e vorrei un figlio felice ma mio figlio Brian ha mantenuto l'uomo come il suo soggetto i goblin ci sono stati corti ho sentito che il capo dei druidi era con voi grazie lo prendo volentieri sembra quasi una trappola prima prima e lo ha rilasciato lì a morire e ci vado sì a parlare a parlare insomma a parlare se va per di ok il canto notturno adesso sembra una missione secondaria ma in realtà poi sarà una missione principale io la prima volta avevo paura di di perdermela che non trovavo sta benedetta reliquia e invece poi alla fine era la missione principale vieni qua dove vai eh sto raccogliendo piante io sto raccogliendo dei cadavere tanto adesso non è più un crimine un ovetto ah non è più un crimine ma prima me lo dice ti mando delle pergamene oh guarda qua prendi tutto prendi tutto guarda le scorte da campo oh beh tanta roba questo l'ho già spazzolato tutto eh sì ma 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 porca vacca ma il mio personaggio è di nuovo invisibile ma dai in che senso? eh non vedi che non si vede no io te vedo ah io no allora è un bug solo mio? eh sì 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 io te vedo ho preso un sacco di roba da mangiare oro tanta roba entriamo? c'è uno zaino qua eh tu non l'hai visto l'ho visto io eh porca volso prego prego vada avanti aspetta c'è un nido di uccelli uccellini ah no mi sa che l'ho già che è oh cosa? no sto facendo delle prove ma io non mi vedo c'è oh c'è so che siete lì venite fuori non ci sarà nessuno spieto ora fammi passare non voglio guai sì che dici? oh Dio intimidire persuasione faccio fatemi vazzare e facciamo finita che non sia successo niente sì è anche vantaggio se no usi il potere del girino però attenzione usare il potere del girino no 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 eh no no vediamo D1 però se vuoi hai ispirazione quella guadagnata prima tiro di nuovo tiro di nuovo ok meno male la seconda va ok ok si preoccupi veniamo in pace veniamo in pace vieni qua vieni qua che Gale vuole parlare ci parlo io però perché tu non puoi ok ok Poi, trovi qualcuno. Spare me un po' di più, se lo vedi. Ho qualcosa di importante per discutere con voi. Abbiamo lavorato un po' di più per un po' di più, e è proprio la volta che ho parlato qualcosa con voi. È un problema più personal, che mi preferisco mantenere quieto, ma bisogna essere quando il vento si riempie. Non ho la possibilità di parlare. You see I have this Condition Very different from the parasite we share But Just as deadly Affiliazione Affiliazione Sì Dice che afflizione Affiliazione È contagiosa? Ci può curare? Beh Dai la Risposta da Ranger Credo di avere in borsa Una foglia di Romic E forse anche qualche bacca medicinale Uh huh Thank you for the offer But the treatment for my condition Is Very specific What it comes down to Is this Every so often I need to get my hands On a powerful magical item And absorb the weave inside Ehm Magia grezza Magia grezza Dovrai darmi qualche dettaglio in più Che tipo di oggetti di preciso Ma così facendo Non rovini l'oggetto Cosa succede se non consumi questi artefatti? Vuol dire che la tua è una dipendenza dalla magia Mmm Mmm Non so Scegli tu Beh la tua malattia ti costringe a consumare magia grezza Dovrai darmi qualche dettaglio in più Dove troviamo gli artefatti che ti servono? Non capisco perché hai bisogno di mio aiuto Ma ehm O ti aiuterò volentieri Oppure dove troviamo gli artefatti che ti servono? Ma in giro Ma in giro gli artefatti che gli servono Sono tutti gli oggetti quelli magici no? Quelli speciali Quelli tipo il cappello Ma lui sta facendo il doppio gioco? No È solo un problema Lui ogni tot deve mangiarsi un oggetto magico Allora facciamolo adri Ti aiuterò volentieri Ok Eh aspetta Aspetta Eh consegna Bisogna vedere cosa abbiamo Eh 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 Se facciamo Io volevo consegnargli qualcosa Però non so cosa abbiamo Eh Boh Eh Ma forse tu hai ancora quel cappello Ce l'hai dietro quel cappello? Sì sì Allora diamo magari quello dai Sì Consegna un artefatto magico a Gale Eh Va a vedere Ah no non ce l'hai Non ce l'ho? Ah no perché vede il mio inventario E non il tuo E non il mio No il tuo no Tu non c'è Eh Allora scusa Sposta di quello No no Non posso Non posso Cioè praticamente vede gli inventari dei compagni del gioco Karlak Cuore scuro Stario Ma il tuo non c'è Fa niente Gli do Poi tanto questo non Non mi serve Cioè gliel'ho dato a lui L'anello di spruzzo colorato Ma spruzzo colorato è una magia che Quindi gli do questo dai Ok dona Ok È a posto no? Non è contento? Thank you Ah ecco che Grazie Cioè si li mette al cuore Si li mette No Gli assorbe la magia E l'oggetto viene distrutto Ah Andiamo bene Eh io la sua Cioè conosco appunto il suo problema Che lui ogni tot deve mangiarsi Un oggetto magio Se lo deve assorbire Però non ho mai visto la Cioè il proseguimento E la conclusione Della sua quest Perché da me Ho provato a non dargli mai niente Ho detto Ha parlato di demone Ha parlato boh Di qualcosa dentro di lui Ho detto Se non gli do niente Magari questa entità esce Cioè Ah invece E invece alla fine Se tu continui a non dargli niente Poi alla fine se ne va Basta Se ne va Lascia il gruppo e basta E quindi Vabbè Ehm Sono contenta che tu sia meglio Sì Oppure ti vuoi far di perché Ma se non l'ha detto prima Il perché Vabbè Allora prima Dai Secondo me Sembra un malessere Di poco spiacevole Oh Non è così male Quando ti fai a usare E Nel più La mia torre in Waterdeep Non è mai stata così Non è così Non è così Sincere Ma Mi comprendo Che chiedo molto Non c'è di che Sono felice Di essere stata d'aiuto Questa tua malattia E' molto costosa Effettivamente Ehm Vabbè Dai Dico la prima Non c'è di che Sono felice Di essere stata d'aiuto Ok Ma Seduta Suzza In faccia Ehm Infatti Sei andato nel fango Eh sì Degli oggetti Dobbiamo vendere Dobbiamo tenerli Capito Per lui Per dargli a lui Vedi che ce l'hai Cappello risolutivo A te non serve Eh Questo lo mettiamo Nell'inventario Di qualcun altro Tipo di Carla Che lei può portare Tanto peso Sì E poi quando serve Glielo diamo a lui Glielo diamo Sì Ok Io c'ho il cappello Parlante In testa Sì Sì Sblocchiamo la tappa Eh Ma perché Ma perché Spacchi i barilli Ma non lo so C'è sto marcio Portone di leno Vediamo Cos'è che segna Qui Ah Il ferro infernale E qui Senti ma posso entrare Nelle case Sì 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 Può entrare Ragazzi c'è tanto da Prendere Tutto un po' zozzo Però Molto zozzo Preghiera della casa Ok Oh Quelli che apro io So body Body Proprio La fame Ebbè non è che siano case di lusso Qua ce ne sono un sacco di ingredienti Per l'alchimia Pozzoni di guarigione Prendo io Bottiglia per pozioni vuota Pozione di sonno Oh Questa è l'amboretto Ok Ho preso il libro Per lustare Lo scantinato Ok Nooo Ma perché ho fatto questa cavolata Un attimo Un attimo Un attimo Che poi non c'è manco niente Come faccio a lasciare questo oggetto All'inventario Ok Parì l'avevi preso Sì E' stato un incidente Allora se vuoi Qua sotto Ci sono dei segreti Dove sei? No sono qua Sotto dove? Sotto Sotto qua La botola La vedi la botola Portello di legno No Non la vedi Aspetta Non la vedi Possibile Portello di legno Pozione guarigione Ok Ok La scrivania Già l'hai fatta? La scrivania No Pene calamaio Non c'è una ceppa Io sto trovando Un sacco di pozioni Di cura Che cuore Io non ne trovo manco una E perché le prendo io? Guarda Guarda i vestiti Ma forse posso cambiarmi Adesso Scusa Vestiti Fammi vedere Sì Non sono vestiti da mago Però Quello che hai adesso Ti dà Dieci Classe armatura No Questi qua sono L'abito dell'accampamento Non è roba Per la battaglia Capito E vabbè Ma insomma Io questa tunica Qui non me la posso togliere Mi fa veramente Gira nudo Se vuoi Ma no Ma Pozione No Veleno sospetto Veleno Guarda c'è qualcosa C'è una leva C'è una leva Tira la leva L'ho trovata io Adesso Arriva Ah Se apre Oh Vedi Vedi Il passaggio segreto Eh sì Eh sì Ricetta Dove va Dove va Oh ci sono i funghetti I funghetti Oh Chi c'è? C'è qualcuno? Oh Eh non andava avanti da sola Però Ci sono delle casse da morto Sì E non toccarle Non toccarle Come non toccarle? Io prendo tutto No Non toccarle Dobbiamo andare avanti Aspetta Tu mi Mi freni Mi freni Eh aspetta Aspetta Eh Guarda le casse da morto Dobbiamo fare così Dov'è? Vieni qua Dove? Allora Aspetta Il gioco salva Salva con le due? Ha salvato lui Ok Salvo anch'io Le vedi in alto Le stalattiti Sì Ecco Colpisci va Colpisci Aspetta però Perché Colpisco Aspetta Con cosa? Con il Eh prova con una magia Non so Un trucchetto Uh che è successo? Eh sopravvissuto Porca Aspetta Vediamo se muore Vabbè ma Gli manca poco Ok è morto Aspetta Perché non è mica l'unico Aspetta Però io gli altri Spuntoni mica li vedo Eh Gli altri Stati Sì Sono in alto Eh come faccio A vederle Ah ecco così Questo lo prendo io Questo Raccoglio Già le mercanzia E Una cosa Tu hai detto Che volevi il tuo animaletto Giusto? Sì Allora vai In quella cassa lì Quella La cassa questa qua Dove sono davanti io Apri Apri Apre la te Sì Aprila Ok C'è Pergamena Pergamena Evoca quasi Uh quanto è bello Un mostro di ciattolo Prova a vedere Se la puoi imparare Ah intanto prendi Prendi Prendo tutto Poi Se tu fai tasto destro Impara incantesimo 50 monete d'oro Non ne voglio spendere No ma è pochissimo No ma è pochissimo Impara 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 Ho imparato da te Ho imparato da te Ok Adesso dovrebbe essere Apparso Esatto Evocalo Dove Ah dentro ancora No no Nella tua Nella tua barra Dovrebbe essere apparso Evoca Il quasi Ah nella mia barra Sì E dove sta Sarà lì Dai Non so Quella rossa Quella Dove Clicchi per le azioni Dai Sarà lì No Io non lo vedo Fammi vedere Magari non è lì Ah no no Ok Allora fai tab Libro degli incantesimi Sì Ecco Devi preparare l'incantesimo Lo vedi Lo vedi Lo vedi Lì Come Come si Ah eccolo qua Sì Trovo famiglio Ok Quindi clicco Vado No Devi Devi equipaggiarlo Devi rinunciare A un incantesimo E equipaggiare Ma proprio Ma proprio Un incantesimo Vabbè Tanto Le uso sempre Tocchetti Sì Le uso sempre Tocchetti E io Guarda Secondo me Puoi rinunciare Robo cromatico Non l'hai mai fatto Eh sì Infatti Allora Clicco via questo Sì E metti il closet Ok Ok Adesso Adesso Non consuma Slot Non dovrebbe Consumare Slot Vai Evocalo Aspetta Experiamus No È troppo bello Sarà Il tuo padrone Il Sembra che qualcuno L'abbia massicata E sputata La tua pergamena era nella barra di un non morto Chi era? Vabbè Sì Pala si chiama Sei proprio una piccola creaturina Disgustosa eh Ti chiami Pala? Lilli che hai menzionato Chi è? Eh io chiederei Oh sembra Gollum Sì sì Ti posso chiamare Gollum? No Che gli è accaduto? Eh Che gli è accaduto? La prima? Sì Non lo so Non lo so Sì Sì È un calore Che libro Ma comunque c'è una bella parlantina posso dire Che libro Padrone dovrebbe andare Si chiama Pala Sì Comunque Sa Pala è troppo forte guarda È un Gollum mancato Parla come Gollum Va bene Va bene Ma Muore poi lui? No Se muore poi lo revochi Allora guarda io e te una cosa sola proprio Siamo pieni di animaletti La fattoria Sì sì Comunque Ma sono belli Lui è proprio bello Sì Tornando a noi Sì In alto In alto ci sono le stalattite In alto le vedi Sì sì Ecco Se vuoi beccala Se no La becco io No no Aspetta Aspetta Ecco Tocca a me Vediamo se Ecco Quello male Si conviene che le tiri giù te Poi becco io Perché qua è pieno di non morti Capito? Eh Ha preso subito lei Ovvio Ovvio Ma se no pigli tu Eh Posso prendo io Eh Però aspetta perché Ah ecco Guarda qua c'è un altro Aspetta Vieni qua Ma Ah Caduta morbida Aspetta che sto E fa E fa Qui non c'è nessuno Ah quello no Quello è morto subito Mi sa Ma a me l'arco non mi interessa Fai te Prendo la piantina Ok Ah basta Non ci sono più L'ostratiti E allora E allora Negli altri Ci sono Gli zombie Di non morti Sorpreso No Qua c'è stata una candela No Qua nella bara Ah C'è uno Ah si Ma che lo prendo Eccolo Eccolo Io non l'avevo visto Eh Solo che io ho già fatto Andiamo Tocca pala Vai pala Ma manca la pala Ma sai veramente Non ci arriva No Aspetta Saltando Sì però No Niente Sanzi che ho fatto il solletico Carica Aspetta E non ci Ok Maianino mi fa morire E non No Ah Mancato Si è circondato No Oh Critico E andiamo di fuoco Quattro Tocca a te Ma non posso fare niente E tu l'avevi già fatto Devi fare termina turno Ah ok Ok Tocca a pala Tocca a me Manca No Quattro danni Ma due di vita Dai ce la fai Ce la fai a ammazzarlo Ma Ma no Dovevi attaccare E' fatto diventare invisibile No No L'hai congedato No Eh ma scusa Leggi No L'hai congedato Quindi se n'è andato No io invece ho letto Congelato Ma no Pensavo Pensavo che potessi congelare il nemico Vediamo Vabbè ma dai Tanto ormai è morto E poi rievoca lo dai Rievoca lo Sì sì Eh ma Mizzera Aspetta Oh Ma ma Madonna Ma non hai mancato Allora Allora Non lo posso rievocare Mollumi Ah perché devi fare Deve effettuare un riposo breve Che cavo Oddio che ride Attenzione che i non morti sono anche Dalle altre parche Qui c'è un diario oscuro Ma dove? Dentro a questa cassa Ah ma scusa Non sono vuote Guarda qui Sì Qui c'è un coso Cosa? Bisogna Qua Eh l'ho tirato fuori io il forziere Ah ok A posto Basta allora Ma scusa è qua Ah sono finiti No piuttosto Qua Qui c'è uno specchio eh Uno specchio magico Prego Parli con lo specchio magico Magico Qui c'è una ceppa Parlo con lo specchio magico? Sì Aspetta prima di parlare Ok salva Per chi? Che succede adesso? Sparlaci Mi si magna? Oddio Vabbè Sparlaci Un magico Un magico Un magico Ho scelto tutto Ma non ho mai visto Una di vicino Prima Ehm Mi chiamo Ehm No Ehm Prova Mago Arcano Esamina lo specchio Cercando di capire Che geni di magia Lo animi Sì Vado? Sì Alla Continua La magica La magica è vecchia Ma lo riconosce Ma lo riconosce Il mirror È un luogo Pensando Che scendere Un segreto Il viso È creato Per essere Sì Ma la personalità È solo una riflessione Del wizard Che lo creata Speak your name Ehm No Usa Dragonite Eh non lo so Sai Dai prova Dai Chi è il tuo padrone Io che ne so Ehm Dì esatto Un alleato Sono un alleato Solo un alleato Solo un alleato Ilinthoth Può passare Che pensi Di Zolkir Known As Zastan Sono degli stappi qua Of course Anyone That knows Of the red Wizards Would Zastan Is a powerful Lich That rules The land Of Tse He drove Many red Wizards Out of their Ancestral home Ehm Ehm È una gilda illustre Potente Uno spregevole Inici Mago A dire il vero Ehm A dire il vero Ehm Eh sì 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 Come Come sarò Epurato È stato lui Che mi ha suggerito male Oddio Ehm 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 Via 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 Vieni con me Corri Corri Vieni con me Vieni con me Corri Corri Mamma mia Damose 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 Aspetta Aspetta Io rientro qua Io rientro qua Eh noi non mi ricordavo Bisogna dire una Delle risposte Ehm Le risposte giuste Ma pensavo fosse giusta Ah ma si è animato qualcuno Aspetta Ma io non sono data Oddio Ma perché sei rimasto là? Eh pensavo non arrivava fino qua Io sono rientrata qui Nella stanzetta Posto E sta ancora là eh No no a posto A posto A posto Sì sì No facciamo così Nella nado Facciamo così Così puoi Ecco Puoi evocare Palla Evoca pala Ah ok Sì Dove sto? Sì Ok vai Appalati Dai Ok vieni qua Sì Vedi io mi ricordavo Io mi ricordavo che c'era Qualche altro scheletro Eh infatti eccolo Guarda Sono comparsi Eh Cioè uno è comparso Allora Facciamo un No no Facciamo un attacco a sorpresa Dai così Colpo critico Colpo critico Ah ma non se ne è accorto Ma scusa Ma chi è che lo cura? Ma come è mancato? Ma si cura da solo? Ma Oh Guardiano agile Ma sicuro adesso Ma scusa Ma come fanno Questa è la tua Ah Siamo in No Ok Adesso siamo in combattimento Un po' Spaventare Ma loro non Non penso Ah sono troppo No Sono troppo distante Comunque Niente Sono sempre troppo distante Eh avvicinati un po' No Movimento non sufficiente Niente Non posso fare una ceppa Basta Nel loro Tocca a loro Ah oh Non mi secchiate Pala Ma come l'aveva? Ho preso te Mortacci Aspetta Vediamo Eh è mancato Io ho già fatto Eh Tocca Stiamo Il marchio Eh Mazzola Io ho fatto Il solletico Dai Carica Ah Il ranocchio Il ranocchio Mi fa morire Guarda come salta Lì morti Ok Tocca Carlac Eh Salto Mancato Tocca 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 Pala Appala Dai E pala E sarà H Ti ho visto Tocca Tocca A me Allora Io ho il marchio Sul sede Così Ok Uno è andato E bevo Un po' Eh Tocca A me Ma me devo avvicinare Ok Questo è andato Eh ma non becca mai nessuno Però Tocca Beh Beh Oh Cazzo Sarana Tocca Carlac Niente Allora Tocca A Ciccio Qua So troppo Niente Un po' So va più niente Ecco Ti sei spostato Eeeh Ma li mortacci Stracci Tua Pala Resusci Dami Mmm Facciamo così Oh grazie Grazie E faccio una Una bevuta Ok Ma mi farei una bevuta anch'io Che dici Me dopo Si No se puoi bere Si No se puoi Se no no Perché non mi ricordo Se potevi bere Subito Si ah ok Si posso bere E Ok Oh Dai Bevi un altro po' Va Si Vai Ok Arco lungo Eh ma è meglio da balesso Quello c'era pure prima Ah no Quello sta nella cassa Ah però L'arco lungo Magari Posso usare Eeeh Carlac Ah uguale To Va bene Eeeh Ragazze e ragazzi Direi che ci salutiamo qua Eeeh Al prossimo episodio Vedremo di parlare nuovamente con lo specchio Bisognava dargli delle risposte giuste Capito Però io non Ah ah Non mi ricordo Esattamente Beh La prossima volta ci parli te Magari ti viene in mente se ci parli Eh boh vediamo dai Va bene Va bene Io raccolgo Io pure E vengo E ciao a tutti E ciao 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 a tutti 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 Grazie.